Uno degli spettacoli naturali più singolari del territorio italiano è costituito dalle piramidi di terra che si trovano in località Cislano di Zone. Buongiorno a tutti e bentornati su Canale Natura. Oggi vi porto alla scoperta di un magnifico posto quasi incantato nella provincia di Brescia sul lago di Sidi. La riserva, istituita nel 1984, prende il nome dalla particolare forma che il deposito morenico di sabbia, massi e ciottoli ha acquisito nel corso dei secoli, trasformandosi in lingue di roccia alte fino a 30 metri con massi di grandi dimensioni adagiati sulla loro sommità a fungere da scudi protettivi. Ad accrescere questa azione protettiva è presente attorno alla piramide di terra una pellicola costituita da argilla insolubile che viene trasportata dall'acqua lungo i fianchi della struttura. Il processo di erosione prodotto dagli agenti atmosferici è continuo e visibile nel giro di alcune decine di anni. La riserva si stende su una superficie di circa 21 ettari ad un'altezza tra i 400 e i 600 metri sopra il livello del mare. Passiamo ora allo spettacolare scenario della Baia del Bogne angolo nascosto del lago di Iseo in provincia di Bergamo. Per trascorrere un weekend indimenticabile e avere la sensazione di stare in qualche isola delle Filippine Baia del Bogne è il luogo che fa per voi. Ed ora un piccolo excursus di come arrivare in questo magnifico posto. Spero vi piaccia. Spero vi piaccia.